Partita infrasettimanale sotto lo sguardo del presidente Domenico Capitani per la Torras che domenica affronterà l'acquedotto La Spal. Gara difficile, la squadra ferraresi è avversario ostico, le pressioni aumentano, l'entusiasmo è da tenere a freno, Capitani negli spogliatoi dà la sua ricetta. Sono uscito in questo momento dalla squadra per dirgli e ribadire questa cosa, insomma, c'ho timore che ci sentiamo più forti di quanto siamo, ecco, che vogliamo troppo in alto. Concentrazione, lavoro, lavoro e concentrazione. Attenzione, cura dei particolari, determinazione come l'hanno avuta domenica a Forlì, quella deve essere una costante di tutta la settimana e della domenica. Sulle questioni societarie poche parole di serenità. Stiamo definendo con Antonio, con Filippo i dettagli, ma insomma le cose si stanno rastererando nel modo in cui si doveva. Nel senso che troveremo un assetto migliore rispetto al fatto che siamo in tre in società e non più uno come era prima. Sul fronte sponsor istituzionale. Sono stato oggi giù a Cagliari per vedermi queste pratiche, come stanno, e vabbè, stiamo lavorando anche su quel versante. Infine il futuro è ancora una chiamata per gli imprenditori locali. La nostra porta è aperta, quindi una società che punta in alto deve avere più imprenditori, più persone impegnate a lavorare per essa. Sul campo la Torres contro la Berretti dà spettacolo. Fermo Cortellini, febbre per Bottone, rientra buon vissuto. Ora le alternative non mancano. L'ultimo arrivato è Gaetano Capogrosso, esterno destro di difesa che esordirà all'acquedotto. Sicuramente ci sarà un po' di emozione, però spero di ripagare la fiducia che mi dà il mister e i compagni. Abbiamo rispetto della SPAL, ma non la temiamo, quindi ci prepariamo come tutte le settimane. Dirigerà Torres SPAL il signor Mangialardi di Pistoia.